tramite un sistema informatico di proprietà dell'azienda committente. Per il Tribunale di Padova gli operai di una cooperativa vanno assunti. Vediamo. Quando il lavoro è regolato passo a passo da un sistema informatico attraverso cuffia o tablet si tratta di lavoro dipendente. Lo ha stabilito il Tribunale di Padova per 15 soci di una cooperativa, 80 lavoratori in tutto nel magazzino di Mestrino in provincia di Padova, che lavora in appalto per Aspiag, concessionaria del marchio Despari in Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. Ne abbiamo cambiate ben quattro cooperative fino ad oggi ed è per questo che è stata fatta principalmente questa causa. Noi ci sentiamo parte integrante di questa azienda e senza di noi la merce al supermercato non arriverebbe. Noi vogliamo appunto che i lavoratori siano assunti direttamente perché hanno lavorato alcuni di loro in questo magazzino ma anche in altri magazzini per 10, 15, 20 anni, sempre con lo stesso committente. Anni di lotte sindacali nell'ambito della logistica e ora una sentenza innovativa, come sottoliniano gli avvocati Barbara Gasparini e Alessandro Capuzzo. Questi lavoratori sono formalmente dipendenti di MG Service ma il giudice ha ritenuto che poiché il sistema gestionale informatico che li dirige, organizza e controlla quotidianamente nello svolgimento delle loro mansioni è di proprietà di Aspiag e non della cooperativa questi lavoratori debbano essere ritenuti lavoratori subordinati della proprietaria del mezzo di produzione e quindi del sistema informatico gestionale. Una sentenza con ricadute potenzialmente dirompenti.